Ciao amici, benvenuti! Bene, come è iniziato l'anno? State influenzati anche voi come la maggior parte delle persone dopo il covid? Abbiamo anche questa bella influenza australiana, virus intestinali, Enzo e Gon. Ok, oggi facciamo un video particolare che avevo pensato di fare perché voglio esaltare quelle che sono le caratteristiche di queste agende. Come vedete ne ho ben quattro di tutti questi altri anni perché come ogni inizio del nuovo anno c'è chi va alla ricerca di agende. Bene, in questo caso che agende sono? Sono le agende dell'arma dei carabinieri, il nostro corpo storico che ha più di cento anni e che ci protegge, protegge la società contro il crimine, e che contribuisce l'arma dei carabinieri a proteggere la società contro appunto le ingiustizie. Ho ben quattro agende che mi sono state tutte regalate da un carissimo amico che mi omaggia con questo bel regalo che trovo adesso indispensabile come prodotto da utilizzare all'inizio dell'anno e anche quest'anno ho beneficiato di questo regalo addirittura avendo anche uno dei bellissimi da collezione calendari dell'arma stessa dei carabinieri. Quindi questo è il calendario del 2023 dell'arma dei carabinieri che addirittura notato è venduto su ebay, può avere un valore che va fino a 400 euro perché se rientra in quelli che sono i desideri, le ambizioni dei collezionisti è davvero molto ricercato. Questo è il calendario, come vedete, del 2023, abbiamo il pennacchio tipico del cappello dei carabinieri e insomma tutte queste bellissime illustrazioni che ci sono, come vedete, molto artistiche, molto belle che caratterizzano lo stesso calendario. E' davvero davvero, averlo è bellissimo perché è uno dei più bei calendari che ci sono in circolazione e si narra in questo calendario, come anche vedremo nelle agende che ogni anno vengono realizzate dall'arma dei carabinieri ogni anno parlano di eventi che hanno caratterizzato l'arma dei carabinieri, in particolare interventi eroici, sacrifici anche a costo della propria vita che i carabinieri hanno svolto, hanno purtroppo dovuto affrontare. Tra le cose più belle e più utili abbiamo questa agenda dei carabinieri che adesso abboxizziamo, tra virgolette, anche noi. Guardate come è rilegata bene, come è presentata bene, in questa bellissima velina a proteggerla ed ecco la agenda, è sempre uguale a se stessa nella parte ovviamente esterna, è il 2023, come vedete. L'apriamo insieme, ogni anno ci sono delle novità su come è realizzata, quest'anno hanno messo nella parte iniziale tutto il calendario e poi nella parte finale si narrano appunto tante tante notizie storiche sull'arma dei carabinieri ma che riguardano ovviamente l'evolversi storico della nostra nazione e che appunto narrano tante di quelle storie come vedete che hanno caratterizzato nel corso di tutta la sua esistenza l'arma stessa dei carabinieri. Un'agenda bellissima, la potete acquistare online, ci sono vari siti che le vendono e potete trovare anche su ebay e comunque il costo varia dai 14 euro fino ai 25 euro per l'agenda ma se avete qualcuno, qualche amico, caro carabinieri ve la può anche regalare. Bene amici di Minuao, era solo un piccolo riconoscimento a quella che è stata negli ultimi anni la mia agenda preferita e che volevo segnalarvi perché comunque è anche fatta molto bene, è voluminosa, è bella grande ci sono belli spazi per scrivere e comunque è bello avere il cartaccio in mano e non solo le rubriche online sui nostri telefoni. È bellissimo invece sentire l'odore della carta l'odore della carta appena stampata ed è sempre una fantastica sensazione. Bene amici di Minuao, memento, audere, semper e a presto su Minuao, ciao!